Il programma elaborato da Enel è presentato nei giorni scorsi ai sindacati nazionali di categoria. 17 nuovi casi a Civitavecchia, 16 sono sintomatici e per uno di questi si è provveduto al ricovero di una 74enne. Intanto il direttore generale Carbone spiega come è cambiato il San Paolo. Grande attesa per il consiglio comunale via web di domani che si pronuncerà sul futuro di CSP. Polemica alla vigilia tra maggioranza e opposizione sulla necessità di svolgere la seduta telematicamente. È stato rinnovato questa mattina il Civitavecchia Blue Agreement. Si tratta dell'accordo siglato due anni fa per attenuare gli effetti del fumo prodotto dalle navi presenti nello scalo. L'ultimo DPCM del governo Conte cambia gli equilibri dello sport locale al palo calcio basket rugby e calcio a 5. Via libera per pallamano hockey windsurf rimandata la pallavolo. Buonasera e ben trovati. Il gas potrebbe essere il protagonista della produzione energetica Civitavecchia nel territorio fino a quasi la metà dell'attuale secolo. Lo conferma Enel in una nota è stata inviata alle organizzazioni sindacali parlando del progetto che riguarda anche Torre Valdariga Nord, estimando in 10-15 anni il periodo di utilizzo del gas all'interno del nuovo impianto termoelettrico. Vediamo il servizio. 10-15 anni di gas, né più e né meno. Sono quelli che attendono Civitavecchia le altre tre centrali attualmente alimentate a carbone, ovvero la Spezia, Fusina e Brindisi. Secondo il programma elaborato da Enel è presentato nei giorni scorsi ai sindacati nazionali di categoria. Un piano che prende ancora spunto dal cosiddetto phase out del carbone, ovvero dal progressivo abbandono di quel genere di combustibile fossile che in Italia, stando a quanto già stabilito, dovrebbe avvenire entro il 2025. Nel piano presentato alle organizzazioni sindacali, la SPA spiega che l'impianto di Torre Nord ha registrato un funzionamento molto ridotto negli anni scorsi ed è stato impegnato principalmente sul mercato dei servizi di rete. Conferma poi quelle che erano le previsioni riguardanti l'occupazione nei vari impianti attualmente alimentati a carbone. Per il periodo compreso tra il prossimo anno e il 2025 si prevede una riduzione del fabbisogno di personale di circa 740 lavoratori, di cui 200 potranno fruire del cosiddetto esodo incentivato e la parte rimanente sarà ricollocata soprattutto all'interno della Power Generation con qualche possibile trasferimento presso le altre business line del gruppo Enel. Il piano, si legge nel documento consegnato ai sindacati, prevede una riduzione non lineare e omogenea nei quattro anni, risultando concentrata principalmente negli anni 2023-2024 nei quali si prevede l'avvio in esercizio delle nuove centrali a gas. Quindi la SPA prevede, forse ottimisticamente, che i primi gruppi delle nuove centrali a gas possano essere già operativi fra tre anni. Allo stesso tempo conferma che dal punto di vista occupazionale il passaggio dal carbone al gas non sarà indolore, ovvero sarà indolore per i suoi addetti che tra prevenzionamenti e trasferimenti avranno comunque garantito il posto di lavoro, ma avrà ricadute negative per le diverse realtà dove insistono gli impianti, che avranno complessivamente meno occupati sia all'interno degli stessi impianti e sia tra le imprese che si occupano di servizi e di manutenzioni. La conferenza dei servizi sulla riconversione di Tore Valdalega Nord va sospesa, rimaniamo quindi allo stesso argomento, a dichiararlo è Giancarlo Turchetti, responsabile Will di Civitavecchia. Il sindacato spiega a Turchetti che è per le energie rinnovabili e secondo noi si deve andare in quella direzione. Occorre però ascoltare prima il territorio e tutte quante le sue componenti. Si tratta infatti di una scelta importante e decisiva che segnerà il futuro di Civitavecchia e di tutti quanti i suoi abitanti. Secondo Turchetti la scelta va fatta tutti quanti insieme e proprio per questo motivo va innanzitutto sospesa la conferenza dei servizi. Il responsabile della Will ricorda come il governo abbia stabilito che entro il 2025 l'Italia dovrà uscire dall'energia carbone, Civitavecchia inclusa. Una città, ha aggiunto Giancarlo Turchetti, che ha dato tantissimo in termini sia di salute che di lavoro. Per questo sarebbe opportuno andare verso le energie rinnovabili. Nel frattempo Enel ha presentato due progetti di riconversione, uno per Civitavecchia e uno per Montalto. Due progetti per termovalorizzatori a gas che non è energia rinnovabile e che avranno ripercussioni e un impatto enorme sulla occupazione. Su mille dipendenti che adesso lavorano alla centrale di Civitavecchia, tra dipendenti Enel e manutenzione con il termovalorizzatore a gas, ne resterebbero soltanto 50, con conseguenze occupazionali, conclude Turchetti, che potrebbero essere devastanti per l'intera zona. E cambiamo argomento. L'Asla ha comunicato al Comune che i dati sui triallomettani erogati nella parte alta della città non sono ancora rientrati nei parametri. Stando a Palazzo del Pincio nuove analisi sono previste nelle prossime ore. Intanto però si registra un duro intervento del consigliere Giancarlo Frascarelli. La situazione sta assumendo contorni grotteschi. L'Asle ci dice che deve avere da Arpa il via libera alla potabilità dell'acqua, su un settore molto importante del nostro territorio comunale. Ma le analisi sono effettuate con tempi lunghi e soprattutto lunghissimi sono i tempi delle risposte. Ora è il caso di fugare un terribile sospetto. Ha nulla a che fare tutto ciò con le enormi pressioni che dalla Regione stanno arrivando perché il Comune di Civitavecchia si pieghi a modifiche ai confini degli ato attuali? L'ARPA, organo della Regione Lazio, ha avuto ordine di tenere sotto scacco Civitavecchia? Toleranza zero con chi ciurla nel manico, conclude il delegato al servizio idrico. Continuano ad aumentare velocemente i casi di Covid-19 a Civitavecchia dopo i 14 che si sono registrati ieri. La Regione Lazio ha comunicato 105 nuovi casi positivi riscontrati nel territorio dell'Asle Roma 4, 17 dei quali nella nostra città. 16 sono sintomatici e per uno di questi si è provveduto a ricovero al San Paolo di una signora di 74 anni. Intanto nel corso della trasmissione TRC Mattina Live il direttore generale del San Paolo Antonio Carboni ha spiegato le modifiche che sono state apportate all'ospedale cittadino. Ascoltiamola in questa intervista. Per il San Paolo non era previsto un reparto Covid. La situazione però è cambiata. Adesso anche a Civitavecchia è stato istituito ufficialmente un reparto Covid. Certo, a Civitavecchia è stato istituito un reparto Covid, era già stato fatto in realtà un piano, precedentemente era stato fatto un piano che era un piano che prevedeva vari step secondo l'evoluzione epidemiologica, sull'indicazione della Regione Lazio che ci ha fatto entrare nella rete degli ospedali con reparti Covid abbiamo aperto 18 posti letto di medicina Covid. Questo abbiamo ricalcato quello che era il piano del mese di marzo, abbiamo creato una medicina Covid al primo piano nei locali della ex medicina e abbiamo accorpato l'ortopedia e la chirurgia al secondo piano e al quarto piano e abbiamo creato infine nei locali lasciati liberi dalla chirurgia 13 posti letto di medicina non Covid perché purtroppo la gente continua a ammalarsi anche e venire in ospedale anche per malattie che non sono legate strettamente al Covid. Anzi, come se mi permette posso fare un appello come ho detto stamattina altri colleghi da altri ospedali che lamentavano il fatto soprattutto che la gente con l'ictus e con gli infarti non si regano in ospedale per paura di del contagio del Covid e quando arriva in ospedale è veramente troppo tardi. Ecco, l'ospedale va usato con criterio, cioè quando è necessario, non venite in ospedale quando per patologie o per cose che possono essere curate a casa dai medici di medicina generale, dal vostro medio di famiglia, ma per le altre cose venite in ospedale, se avete problemi venite in ospedale per le cose necessarie. Poi abbiamo isolato completamente, come scherzavano, dicevamo che abbiamo fatto un bunker perché abbiamo messo dal lato dell'opulistica e dell'oncologia, abbiamo fatto proprio una parete vera questa volta. Una separazione. Una separazione che è veramente una separazione fisica, non è come a marzo che abbiamo messo per terra una striscia rossa, abbiamo alzato una parete in cartogesso in una notte proprio perché così c'è un isolamento proprio spaziale tra i due percorsi, capito? Perché chiaramente non lo faranno guardare il percorso soprattutto dei pazienti oncologici, che hanno delle immunodeficienze e i pazienti oncologici che normalmente sono abbastanza anziani rispetto a quello che poi è percorso Covid. Rimaniamo sullo stesso argomento, intanto in chiave Covid-19 a preoccupare c'è un nuovo dato assolutamente fondamentale. Si tratta del tasso di contagio, ovvero della percentuale delle persone che si trovano affette dal virus sulla base dei tamponi effettuati. In mancanza dei dati ufficiali e dei tamponi che sono stati effettuati direttamente dall'ASL si può prendere a spunto il report che da qualche giorno a questa parte fornisce il centro diagnostico Buonarroti, dove vengono eseguiti i tamponi rapidi. Ebbene, nella giornata di ieri la percentuale di positivi è salita al 10%, notevolmente quindi cresciuta rispetto ai giorni precedenti. Fino a domenica scorsa il tasso di positività era sotto il 5%, precisamente al 4,83%. Da ieri è salito quasi al 6%, ovvero al 5,95%. È un segnale, questo che anche a Civitavecchia ci si contagia di più. Ecco perché è assolutamente fondamentale seguire le tre indicazioni che vengono fornite al fine di evitare la diffusione del virus, ovvero indossare la mascherina, lavarsi frequentemente le mani e mantenere la distanza di almeno un metro rispetto alle altre persone. E siamo alla vigilia dell'attesissimo Consiglio Comunale sul futuro di CSP, nel corso del quale i consiglieri comunali saranno chiamati a votare la delibera per il salvataggio della partecipata. Lo faranno in via telematica, visto che la seduta si svolgerà online, come deciso dalla riunione dei capigruppo. Vediamo il nostro servizio. Ci penseranno le telecamere dei PC o degli smartphone, le connessioni che saltano, l'impossibilità di intervenire a commento delle parole di un collega di una diversa fazione politica e la mancanza del pubblico a raffreddare gli animi nella tesissima seduta del Consiglio Comunale convocato per domani mattina alle 8.30. La massima assise cittadina che dovrà affrontare la delicata questione legata al futuro di Civitavecchia Servizi Pubblici si svolgerà infatti in modalità telematica. A deciderlo è stata ieri la riunione dei capigruppo, in seguito alla risposta del prefetto interpellato proprio per fornire indicazioni specifiche sullo svolgimento del Consiglio Comunale. E qui la prima polemica tra maggioranza e opposizione, con l'amministrazione che sottolinea come una seduta in presenza avrebbe senz'altro costretto all'esterno dell'Aulapucci una parte cospicua di chi voleva assistervi, impedendo quindi la trasparenza che la modalità telematica assicura a tutti e peraltro con il non marginale effetto di creare assembramenti. E con la minoranza che spiega che in realtà la risposta del prefetto è stata una riproposizione delle norme generali in tema Covid contenute nel recente IPCM, mentre una circolare del Ministero degli Interni lascia una totale discrezionalità circa le riunioni degli organi elettivi che possono essere tenute in presenza fermo restando le condizioni relative al distanziamento e l'utilizzo di presidi sanitari adeguati. Al di là delle polemiche, la decisione è presa. La famosa delibera sul salvataggio della partecipata, ovvero quella con la quale i consiglieri dovranno votare o meno per la ricapitalizzazione della partecipata del Comune, sarà discussa dietro lo schermo di un PC, un tablet o uno smartphone. I malpensanti sostengono che quella di evitare la seduta in presenza sia stata una scelta consapevole della maggioranza, apparsa spaccata sulla difficile decisione da prendere. I consiglieri, al sicuro da contestazioni e discussioni, anche con gli stessi vicini di banco, potranno alzare o meno il braccio su delibera ed eventuali emendamenti. Anche se la seduta si svolgerà in via telematica, l'attesa resta altissima, visto che all'ordine del giorno c'è una delle questioni più complicate da risolvere dall'insediamento dell'amministrazione tedesco, chiamata a decidere sul salvataggio di CSP con il ripianamento da 5 milioni di euro o il fallimento della partecipata. Una questione che tiene col fiero sospeso, soprattutto i lavoratori, ma anche i cittadini. Al fine di garantire la normale salubrità degli ambienti di lavoro dei dipendenti, continua la campagna di sanificazione degli uffici comunali. Oggi è toccato al comando di Polizia Locale, sito in via Bracianese, Claudia. La riapertura è prevista già per domani mattina alle ore 7. Un altro passo in direzione della progressiva riduzione ed eliminazione del fumo prodotto dalle navi presenti in Porto. È stato rinnovato questa mattina in Capitaneria di Porto il Civitavecchia Blue Agreement, ovvero l'intesa che era stata siglata due anni fa per attenuare gli effetti del fumo prodotto dalle navi presenti nello scalo marittimo locale. Vediamo quali sono i contenuti dell'accordo in questo nostro servizio. È stato rinnovato questa mattina presso la sede della Capitaneria di Porto il Civitavecchia Blue Agreement, l'accordo che era stato siglato due anni fa per attenuare gli effetti del fumo prodotto dalle navi presenti nello scalo. Il primo accordo tra l'autorità di sistema portuale del Martirreno Centro Settentrionale, la Capitaneria di Porto, il Comune di Civitavecchia e le compagnie di navigazione operanti presso lo scalo marittimo locale era stato infatti sottoscritto nell'estate 2018 a seguito di una proficua collaborazione interistituzionale e con l'obiettivo di tutelare l'ambiente marino e costiero oltre che per contenere i livelli di inquinamento atmosferico nelle aree urbane dovuti alle emissioni provenienti dalle navi. Nel documento sottoscritto questa mattina le novità più rilevanti sono rappresentate dalla firma di tutte le compagnie croceristiche che al pari degli armatori, delle linee passeggeri e traghetti si impegnano ad assicurare emissioni associate all'uso di combustibili aventi un tenore di zolfo inferiore allo 0,1% creando una vasta area seca sul full emission control area di 15 miglia nautiche per le navi passeggeri firmatari e nonché la creazione di un gruppo di lavoro che opererà in funzione dell'utilizzo di nuove tecnologie tendenti a ridurre gli effetti inquinanti. L'accordo produce i suoi effetti sia nelle operazioni di ormeggio che in navigazione ad una distanza non inferiore alle 15 miglia dalle ostruzioni portuali, unico caso tra i porti italiani, contribuendo così a ridurre l'impatto delle emissioni in atmosfera da parte delle unità navali in arrivo in partenza da Civitavecchia. Si è data in tal modo un'ulteriore e ancora più incisiva risposta alle richieste dei cittadini sebbene il porto abbia comunque mantenuto negli ultimi anni dei livelli di inquinamento dell'aria al di sotto dei limiti prescritti per legge. Soddisfazione per il rinnovo dell'accordo e per l'adesione di nuovi e importanti armatori viene espressa dal presidente dell'autorità di sistema portuale del martirreno centro-settentrionale Francesco Maria Di Maio. Con il Civitavecchia Blue Agreement prosegue incessantemente il percorso dell'autorità portuale che punta alla graduale diminuzione dell'inquinamento prodotto dal traffico marittimo. Soddisfazione condivisa anche dal comandante della capitaneria di porto di Civitavecchia Francesco Thomas, dal sindaco tedesco e dall'assessore all'ambiente Manuel Magliani. Un'altra linea di navigazione che collega Civitavecchia con le isole ha forte rischio di chiusura, ma questa volta il problema non è rappresentato dal costo delle operazioni portuali. Si tratta del collegamento con il porto sardo di Arbatax, che dalla fine del mese dovrebbe cessare in conseguenza della scadenza dei contributi governativi. La Cintirregna ha già anticipato che interromperà la linea a partire dal sabato prossimo, primo novembre, e la comunicazione ha fatto ovviamente scattare l'allarme nelle aree dell'isola maggiormente interessate al collegamento. Sono così scesi in campo i comuni e subito dopo la questione è stata rilanciata dalla regione e dai parlamentari sardi che hanno interessato il governo. Al momento a quanto pare la linea potrebbe essere salvata attraverso quanto previsto dal decreto Cura Italia. Si parla in sostanza della possibilità di una proroga della convenzione pubblica per la continuità territoriale con le isole maggiori e affidata a Tirrenia, fra i quali il collegamento proprio con Arbatax, sino almeno alla prima parte del 2021. Cambiamo ancora una volta argomento, ci risiamo. Per l'ennesima volta da qualche anno a questa parte il semaforo, che si trova nel tratto di strada mediana che si incrocia con via Chiele Montanucci, è guasto. La rottura, probabilmente come le precedenti, conseguente ad un temporale, è avvenuta da una decina di giorni. Da allora l'impianto semaforico non è funzionante, con grave situazioni di disagio e soprattutto di pericolo per quanti si trovano a dover percorrere l'incrocio. Un incrocio che in alcune ore della giornata, vista la strettissima vicinanza con la scuola media Flavioni, è frequentatissimo, soprattutto da ragazzi. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Quali sono le squadre locali che dovranno fermarsi fino al 24 novembre, secondo quanto stabilito dall'ultimo DPCM del governo Conte? E quali invece potranno continuare la loro attività? Lo scopriamo in questo servizio. Vediamo. L'ultimo DPCM emanato dal governo Conte ha stabilito che gli sport di contatto dei campionati regionali e provinciali dovranno fermarsi fino al 24 novembre, mentre potranno proseguire quelli di interesse nazionale. Quali sono allora le squadre locali che stopperanno le loro attività e quali quelle che andranno avanti? Cominciamo da chi per un mese dovrà fermarsi. È il caso del Civitavecchia Calcio, della CSL Soccer e delle formazioni di calcio a 5 locale maschile e femminile, Civitavecchia, Fuzzall'Academy e Atletico Tirrena. Per loro niente partite, ma soprattutto non consentiti neanche gli allenamenti per effetto della decisione del Comitato regionale e della LND. Lo stesso si può dire delle squadre di basket e rugby, con lo stop che anzi per loro potrebbe prolungarsi. La FIP ha infatti bloccato tutte le attività fino al 24 novembre, come stabilito dal DPCM, ma sembra che i campionati, tra cui la C-Gold, a cui partecipa la Stemar 90, partiranno a gennaio 2021. E potrebbe essere già finito il 2020 anche per il CRC, con la FIR che conferma il blocco anche degli allenamenti almeno fino al 24 novembre e il rinvio dei campionati al 24 gennaio 2021. Parliamo adesso di chi potrà continuare le sue attività. Cominciamo dalla palla a volo con Civita, la The Revolution, che secondo quanto stabilito dalla FIPAV potranno continuare ad allenarsi ma solo in modo individuale e in impianti all'aperto. Più complicato capire quando partiranno i campionati delle due squadre. Quello di B2 è stato rinviato al 21 novembre, mentre per quanto riguarda il campionato di Serie C, una data certa ancora non c'è. Sempre per quanto riguarda la palla a volo dovranno fermarsi CV Volley, Volley Academy e le squadre minori dell'ASP. Nessun problema invece per palla a mano e hockey. Sia la FIGIH che la FISR hanno annunciato che si può andare avanti. Non c'è ancora la data per la partenza del campionato di A2 femminile per la Flavioni, mentre inizierà domenica la Serie B per gli Snipers Tecno Alt. Sul limbo infine rimane la palla a nuoto. La FIN non ha infatti né bloccato né rinviato attività ai campionati, quindi l'NLSNC potrà andare avanti con il campionato di Serie A2 che con ogni probabilità prenderà il via a gennaio. Il problema però è che la società Civitavecchiese, come tante altre, si trova in difficoltà a causa dello stop ai corsi di nuoto e quindi la partenza rimane in forte dubbio per questioni economiche. Questa è al momento la situazione dello sport locale almeno fino al 24 novembre, quando qualcosa potrà cambiare in positivo o in negativo. Proseguiamo con lo sport e ci occupiamo adesso di pallavolo. Anche quest'anno la squadra di Serie B2 dell'ASPA sarà sponsorizzata dalla Margutta. Sono ben sette anni che il prestigioso marchio di ortofrutta sosterrà la formazione femminile Civitavecchiese che quest'anno si è unita alla Dispoli, passata dalla Serie D alla B2. La Margutta è uno degli sponsor più longevi di tutto il Lazio. Le Marguttine sono ancora nel cuore di Aurelio Pallavicino, affermano dal Club Rosso Blu, patron della gruppo produttori Agri, azienda leader nella commercializzazione di ortofrutta. Nelle sponsorizzazioni della squadra entra anche Todis, che per la prima volta sosterrà una squadra di pallavolo cittadina. Passiamo al windsurf. Non ci saranno intoppi all'attività del windsurf per la Lega Navale. La Federvela non ha imposto nessun blocco dopo il nuovo DPCM del governo Conte. Infatti il windsurf è uno sport individuale e pertanto non è stato toccato dalle regole imposte per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Ma non è tutto oro quel che luccica. Infatti con i problemi che si stanno creando in giro per il mondo, a causa proprio della pandemia, potrebbero esserci degli intoppi per le gare internazionali di Daniele Benedetti e Mattia Camboni. Veniamo al paddlesurf. Non si ferma il momento super per Cecilia Pampinella. Nell'ultima tappa del campionato italiano che si è disputata nelle acque di Cecina, la paddlesurfer, Civitavecchese, si è laureata a campionessa italiana U18 di Sup Race. L'allore è arrivato anche grazie ai tanti primi posti ottenuti in Toscana, sia nella gara tecnica di 5 km che nella long distance di 9 km, dove è stata prima classificata nell'U18 e tra le donne. Le condizioni meteorologiche erano molto impegnative, spiega Cecilia Pampinella, ma nonostante ciò ho messo in risalto le mie doti. ringrazio la Lega Navale che permette gli allenamenti tutti i giorni. Passiamo ora ad una segnalazione che ci arriva da Campo dell'Oro, come spesso accade. Alcuni telespettatori ci hanno contattato da Via Sicilia per segnalare la situazione di disagio che si registra a causa della presenza di numerose buche che giorno dopo giorno stanno diventando sempre più profonde. Come si vede dalle foto che ci sono state inviate, questo scenario sta creando molti problemi ai pedoni, soprattutto anziani che transitano nella zona. Come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti. Bene, termina qui questa edizione del nostro telegiornale, ma prima di salutarvi come di consueto vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, Youtube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo di proseguire con i nostri programmi anche questa sera. A risentirci.